Musica Ciao a tutti ragazzi, bevuti in questo nuovo video di Kevinuzumaki50 E oggi siamo tornati a fare summon in Naruto per Boruto Ninja Voltage Cominciamo Sono uscite delle nuove carte ninja che si possono ottenere in questo gioco Ora andiamo subito a vederle Se volete sapere cosa ho trovato nelle scorse summon trovate il link in descrizione dello scorso video Comunque oggi andiamo a fare le summon su queste carte qui di Jabu-san Ne farò solo una da 10 Che possiamo trovare allora la sua arte ninja 5 stelle Poi anche quella di Aku 5 stelle Sicuramente Ah no solo Jabu-san, ok E praticamente Jabu-san ancora non ce l'ho però posso prendere nelle missioni E quindi se trovo una sua carta non mi dispiacerebbe È confermato che posso averlo perché tanto sono facili le missioni sue E quindi Cominciamo subito Speriamo che ci esca qualcosa di Buono, dai Vediamo Speriamo che ci esca qualche carte 5 stelle Possibilmente anche di Naruto Sasuke La prima è 3 stelle Ok Ed è già di Jabu-san Ok, buono Rara Continuiamo 3 stelle anche questa Di Tobi Ok Niente male pure questa 3 stelle Ah non diventa mai 4 Una di Jabu-san Ok Lo possiamo potenziare 4 stelle o 5 Vediamo cos'è 4 stelle Vediamo cos'è Vediamo 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 Ecco qua Una carta di Jabu-san Che si poteva ottenere Che era nel race Niente male Perfetto Ok 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 di Hino Poco utile 3 stelle Rimane 3 stelle Questa è di Kiba Ok Niente male Ci servirebbe una carta 5 stelle Ci servirebbe Ok Questa è ancora 3 Di Boruto Presumo Sì Di Boruto Solo per aumento di statistiche 2 stelle Questa Stigione 3 stelle Rimane 3 stelle Cavoli Ancora Jabu-sa Buono Lo potenziamo Buona grande Lui Ah E questo è diverso Già un altro di Jabu-sa Niente male Buono dai Non è andata tanto male Allora Le carte nuove Una di Tobi Di Jabu-sa Lo devo prendere immediatamente Dopo tutte queste carte Eppure una 4 stelle Quindi lo devo prendere immediatamente Ok Allora 3 carte di Jabu-sa Uguali Poi una 4 stelle E un'altra 3 stelle Nessuna carta di Jabu-sa 2 stelle Quindi potrebbe essere Molto forte Bene Non è andata male Poteva andare Molto pezzo Ovviamente Jabu-sa Lo trovate qui Con ancora 0 frammenti Ma posso prenderlo subito Andando a fare Quelle missioni Comunque ragazzi Il video si conclude qui Spero vi sia piaciuto Mettete un bel pollice in su Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Sono stato abbastanza fortunato Che ho trovato una carta 4 stelle di Jabu-sa Potremmo andare molto peggio Quindi ragazzi Ripeto Mettete un bel pollice in su Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E attivate la campanella Delle notifiche Così vi arrivi alla notifica Di ogni mio video E ci vediamo alla prossima Ciao